piccolo manodetto ciao ragazzi in passato avevo fatto un video tour 2 presattezza sul costoco che è un ipermercato americano ce ne sono circa una ventina in giappone e sono famosi perché tutto quello che si può comprare all'interno ha delle confezioni gigantesche e la cosa divertente in giappone chi ha visitato un mercato giapponese sa che i caralli sono piccolissimi che la roba è veramente tipo la verdura e la frutta viene venduta da una unità non a chilo non a pacchi grandi e tutto quanto veramente piccole piccole porzioni al costo invece puoi comprare anche fino a 2 kg di carne 3 kg di carne o comprare l'intera mucca puoi comprare è una cosa ed è ed è famoso per di tutto e anche prodotti di importazione mi lascio il link in descrizione per vedere com'è fatto all'interno oggi voglio mostrarvi la spesa che già diciamo non tanto di cioè salutare ma anche un po quella che fai quando vuoi esporare la dieta no quindi ci sono cose che non vanno proprio molto dietetiche diciamo sono anche ipercaloriche quindi state con me facciamo due risate e vi mostro cosa ho comprato quando mi è costata la spesa è perché ho scelto di comprare alcune cose rispetto a comprare a costo che non le compro tipo alimentare giapponesi allora partiamo dall'aglio l'aglio questo lo condividerò poi con i miei suoceri perché ovviamente potete capire che in due tutto staglio lo consumeremo mai però a per qualità prezzo un sapore buono soprattutto si sente a volte trovi sempre quello cinese quando vuoi spendere leggermente di meno ma non sa mai di niente con la fine il pane non è malvagio questo qua la cosa buona di questo pane forte che è fatto un giorno per giorno del fresco ma poi di congelarlo eventualmente tavanza e quando una volta che lo tosti il buono poi ci abbiamo questo è preparato con la salsa fettacolo rice mia moglie l'ha comprato sono queste convenzioni che si sono già standardi salata peperoni ha fatto una specie di calcolo in base alla quantità che sono all'interno sono sei in giappone costano al momento quasi 200 yen 8 1 euro e 40 l'uno è questa l'intera l'intera convenzione ho pagata se non ricordo male entro ogni 7 euro quindi ho risparmiato un 3 euro vabbè oggi ho trovato poi le patatine amica chips che sono raro la convenzione ovviamente mezzo chilo di patatine ci te le scassi tutte no le mangerò poco alla volta ecco questo diciamo sono le patatine che ho comprato adesso che non ne sto comprando da tanto tempo quindi è proprio di cui io non è proprio chiaramente salutare come spese poi abbiamo qua un pollo intero questa cosa che vi spiego che è un trucco questo è un trucco commerciale questo pollo costa il poco più intorno ai 5 euro intero già rossi del tutto qua poi vi spiego una cosa perché il pollo è una trovata commerciale semplicemente che a quel prezzo noi 700 yen un pollo intero non l'ho trovata nessuna parte giappone già colto già rossi tutto quanto lo usano come esca la gente dice vado a comprare pollo qualcosa già di pronto prendo il pollo perché una parte lo mangio altra parte ci faccio il curry cioè non è che o lo uso per fare l'insalata per la bendo cosa che faccio io ne che mosca sonderò sto buono adesso ma una parte la della tiro via la polpa preparo già pollo che poi utilizzerò per fare la mia insalata a pranzo quando vado a lavorare mi porto la bendo già con il pollo già pronto è una parte finirà nel curry una parte la mangeremo adesso con un sandwich questa cosa ed è una cosa che il rapporto di qualità prezzo c'è però ovviamente tu quando vai a costo non vai solo per comprare il polo prendi il polo poi finisci per comprare altra roba quindi è un po unesca come lo è pure la la pizza nonotonda che costa pochissimo come la faccio vedere lo può essere il gelato che è enorme o il succo che costa un cavolo sono enormi costa 50 centesimi di yen prendere da bere il biberone con l'americana che prima del covid lo potevi bere all'interno quindi mentre facevi shopping te bevevi l'olio che in drink soft drink c'è mangiare l'americana proprio 50 centesimi e sono tutti i vari trucchi per spingere la gente poi a fare un giro all'interno a spendere più soldi altra cosa poco niente solo questa abbiamo presi come esperimento quindi diciamo un po un po libertà questo yogurt qualcuno di voi lo conosce 10 grammi proteine per ogni singolo yogurt e 92 calorie questi quali io li utilizzo pure nella passa pranzo ci faccio la mia enzalata pollo e e mi porto uno di questi qua al lavoro per integrare le proteine comunque avere qualcosa di dolce ma che sia comunque a calorie limitate lo trovo molto 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 buono poi ho trovato un po di frutta che non si trova facilmente giapponese a un prezzo umano e gli avvocato che questi qua sono costati circa un euro l'uno in questa grandezza mi costerebbero due tre volte di più in giappone la novità di questo periodo al costoco e la porchetta pizza questa pizza costa intorno agli 11 12 euro ci mangiano quattro giapponesi con sta pizza 4 io ho provato a mangiare la mezza intero ho avuto c'è solo pieno come una zampogna per l'intera giornata cioè non è proprio quel tipo di queste pizza americana che hanno e pizza ovviamente totale di questa spesa dimenticavo una cosa totale che ho speso 20 mila yen sono credo col cambio circa 150 euro poco più poco me ma l'altra cosa abbiamo speso come l'ho dimenticato che questa è la lingua di mucca questa confezione costa circa 20 passa euro e sono mezzo chilo questa viene dalla congeli poi la la griglia se cosa è sporca la confezione ma io l'esperimento che ho fatto sotto gli hamburger questa quale carne macinato sono due chili di macinato 2335 e ne sono le nuove si spacca la confezione da quando pesa ecco due chili raga per circa 16 euro quelle concelli monoporzione ci faremo qualsiasi cosa porta l'hamburgo ci puoi fare preparati mia moglie ha fatto cucina anche tailandese cucina anche coreano e ci posso fare la bolognese ci posso fare un sacco di altre cose quindi è un investimento sulla quantità e questa è la spesa che potete vedere fatta in una premita mercato americano abbiamo sapone per le mani sempre quantità enormi e diciamo la i rotoloni quelli da cucina 12 lo costano torno ai 13 14 euro pure la cartigianica ci ha delle confezioni così enorme che ha bambini da bisogno di fare comunque delle spese sulla quantità quindi può organizzarsi anche sul punto di vista comprano tanta carne poi la congelo mi organizzo è così per due tre settimane o da mangiare posso variare il costo va a questa funzione ovviamente ci vanno pure persone che hanno attività commerciali tutto per le dove le grandi quantità di nelle confezioni quindi c'è un rapporto pure di prezzo e quantità ma c'è di tutto raga adesso c'è pure la roba di a di natale di halloween che cosa che la roba per la palestra gli attrezzi uno ti potrebbe fare una palestra a casa c'è tutto potrebbe arrivare pure la postazione da game player con quella professione col che ti puoi sedere c'è lo schermo che si muove c'è a volte portano le robe fuori di testa la cosa mi fa morire a volte sulle nelle piscine con viaboli da da villa che in giappone in giappone secondo me c'è davvero bene uno spazio però questa è la cosa straordinaria di questo tipo di per me per mercato e poi ci vuole la testa devi pagare intorno 4 mila yen all'anno per registrarti ecco quella testa puoi andare a comprare in qualsiasi altro posto del mondo e la benzina costa di meno all'interno della struttura e fanno pure il cambio gomme c'è non può la farmacia all'interno quindi sono enorme ragazzi e poi se non andate a vedere i video che ho fatto del tour all'interno è veramente impressionante non vi dico le reconvezioni di sushi che sono esagerate pesce che viene la trastashimi sushi e poi guarda il dettaglio è fuori di testa da quando veramente le robe fuori di testa fanno le torte fanno un sacco tipi di pane c'è una sezione del vino pure quella importazione all'italia c'è un sacco di prosecco spumandi all'italia la scelta enorme cioè di qualsiasi cosa per la casa dai televisori all'ietrodomestici al frigorifero a forni ci stanno c'è tutto quello che serve per l'officina se ti vuoi fare un'officina a casa deve comprare tutto quello che ti serve per fare un'officina a casa è fuori di testa questo posto quindi invito ad un'occhiata al shop tour ne ho fatti due uno dura 26 minuti perché proprio farlo vedere al dettaglio e c'è una sezione è molto interessante anche per i bambini con giochi tipo le sale case delle bambole queste cose qua grosse ho visto pure la cucina per le bambine costava intorno di 70 euro ed era enorme qua in giappone poi negozi home center per bambini compri una cosa di genere ti costa due tre volte e più quindi questo aiuta un po l'unico modo per arrivarci con la macchina sono messi in posti che non non sono facilmente raggiungibili credo che i trasporti almeno quassendati serve la macchina per arrivarci non è molto fuori dalla città una trentina di chilometri fatemi sapere cosa ne pensate e se dove andate voi a fare la spesa la spesa così all'ingrosso se ci sono dei grossi centri commerciali negli per mercati io sono tanti anni che mancano in italia dieci anni che non faccio una spesa in italia quindi mi appoggio alimentari quello di paese quando vado giù dai miei in calabria quindi non sono mai andato a fare una spesa nel mercato italiano fatemi sapere come ritrovate i prezzi e se potete quello che vi ho mostrato fare dei paragoni in base a quello che voi ritenete che sia conveniente secondo la vostra spesa io adesso ci maniamo un bel panino un bel sanduiche col pollo la pizza teniamo stasera questa qua non si deve è solo pronta non è cotta quindi una volta poi devi prendere devi mettere nel forno dovete capire come cavolo la faccio entrare nel forno sta pizza adesso che è grossissima quindi devo tagliarla per poterla fare qual è andrà in questa cosa piccolo che c'ho qua dietro questo qua mi scendono ci può mandare un bacio ragazzi ci vediamo un prossimo video al giappone fate bravi